La terapia dei pazienti con broncopneumopatia cronocostruttiva sta cambiando profondamente, non solo alla luce delle linee guida sia internazionali sia italiane, ma anche alla luce dell'esperienza clinica. Quello che è importante è che c'è una quota di pazienti in cui si preferisce fin dall'inizio intervenire con una terapia molto più potente rispetto a quella utilizzata in passato, la cosiddetta doppia broncodilatazione. Noi ne parliamo col professor Pelaia dell'Università della Magna Grecia. Allora professore ci aiuti un po' lei a districarci tra queste sigle di cui si sente tanto parlare ma che non sono così immediatamente chiare. Cosa vuol dire doppia broncodilatazione? Cosa vuol dire usare i laba e i lama associati? Sì, sostanzialmente doppia broncodilatazione significa poter erogare al paziente mediante un singolo device, un singolo dispositivo, una combinazione di due broncodilatatori diversi che agiscono con differenti meccanismi d'azione, perseguendo però lo stesso obiettivo, la broncodilatazione, che quindi può sfruttare il reciproco potenziamento dei diversi meccanismi d'azione, potendo così dar luogo ad una interazione additiva o addirittura sinergica che quindi garantisce una broncodilatazione molto più efficace rispetto alle singole broncodilatazioni con l'antimuscarinico o il beta 2 stimolante. In realtà invece combinando questi farmaci a lungo termine, i beta 2 stimolanti a lungo termine, cioè i laba, con gli antimuscarinici a lungo termine i lama, sostanzialmente c'è questa sovrapposizione di due meccanismi d'azione, uno stimolante recettoriale, l'agonista beta 2 adrenergico, che induce direttamente il rilasciamento della muscolatura liscia delle vie aeree, meccanismo che viene naturalmente potenziato dall'antimuscarinico che blocca gli effetti broncocontratturanti indotti dall'acetilcolina attraverso la stimolazione dei recettori muscarinici e questo meccanismo rappresenta nella BPCO sostanzialmente il meccanismo fisiopatologico più importante nel determinare, dal punto di vista funzionale, la limitazione del flusso aereo che quindi può essere notevolmente attenuata dalla integrazione di questi due sistemi di potenziamento della broncodiatazione. È stato chiarissimo. Professore, i pazienti con BPCO sono tanti. In quali pazienti, alla luce appunto dei dati clinici, delle linee guida, anche della normativa vigente, delle indicazioni di questi farmaci, è più corretto utilizzare, più utile anche, utilizzare la doppia broncodilatazione? Beh, sicuramente un dato che emerge nella nostra attività clinica purtroppo consiste nel mancato riconoscimento dal punto di vista diagnostico di molti di questi pazienti e conseguentemente in un sottotrattamento che limita moltissimo le possibilità di successo della terapia broncodilatante, che è tanto più efficace quanto più precocemente e tempestivamente istituita nei pazienti broncopneopatici cronici ostruiti. Quindi, sostanzialmente, poiché la proprietà di rallentare il progressivo declino della funzione respiratoria che caratterizza la storia naturale di questa malattia è tanto più possibile quanto prima si interviene terapeuticamente e allora intanto bisogna istituire una terapia broncodilatante in tutti i pazienti affetti da BPCO. Sostanzialmente nella mia pratica clinica io ormai riservo la singola monobroncodilatazione soltanto ai pazienti con BPCO di grado lieve perché in tutti gli altri pazienti con limitazione del flusso aereo di grado moderato grave o molto grave è bene, secondo me, istituire subito prontamente una duplice broncodilatazione in grado di assicurare fin dall'inizio della terapia quelle prospettive nel tempo di attenuazione del declino funzionale respiratorio. Purtroppo nella nostra pratica clinica invece vediamo molto spesso pazienti che arrivano troppo tardi alla terapia broncodilatante in modalità singola o duplice e ciò limita notevolmente le possibilità di successo quindi penso che un messaggio importante si riferisca al fatto di estendere a tutti o almeno quasi tutti i possibili beneficiari i vantaggi della duplice broncodilatazione senza attendere i risultati poco soddisfacenti della monobroncodilatazione. Sento un'ultima domanda professore, i cortisonici che spazio hanno in questo tipo di terapia e la triplice terapia che vede quindi l'associazione accanto all'Abalama anche l'aggiunta del cortisonico, ecco sono diciamo così in quali casi riservare questo tipo di approccio e se invece l'Abalama rimane l'approccio più utile nella maggior parte dei pazienti. Allora il cardine della terapia della BPCO sicuramente si fonda sull'impiego dei farmaci broncodilatatori che rappresentano la spina torsale del trattamento. Ora sicuramente il suo quesito è molto importante perché bisogna decidere quando eventualmente aggiungere il terzo farmaco sempre considerando che i primi due farmaci da utilizzare sono o il labba o lama in monoterapia o l'aggiunta del partner per la duplice broncodilatazione. Quando intervenire con l'aggiunta dello steroide inalatorio quindi in un modello di triplice terapia inalatoria. A questo riguardo sicuramente esiste oggi un dibattito molto acceso perché in realtà la duplice broncodilatazione sta dimostrando un notevole vantaggio anche rispetto alle associazioni tra steroidi e labba in quei casi che una volta venivano etichettati come quelli maggiormente candidabili alla terapia steroide inalatoria in combinazione con il broncodilatatore. Mi riferisco per esempio ai frequenti riacutizzatori. In realtà ultimamente sono stati pubblicati degli studi, mi riferisco per esempio allo studio Wisdom che ha evidenziato come la sospensione del corticosteroide inalatorio nell'ambito di una triplice terapia che quindi rimane duplice, non ha alcun effetto negativo in termini di prevenzione delle riacutizzazioni. Esistono altri dati molto interessanti che riguardano soprattutto la duplice broncodilatazione con la combinazione indacaterolo-glicopirronio che documentano una non inferiorità o addirittura secondo alcune anticipazioni dello studio FLAME una superiorità di questa terapia di associazione labba-lama rispetto allo steroidi inalatorio che forse va riservato nei casi particolari di pazienti con BPCO che esprimono un fenotipo infiammatorio di tipo eosinofilo perché gli osinofili sono molto sensibili alla terapia corticosteroidea per cui forse va riservata a questi casi molto limitati di bronchite cronica eosinofila associata alla BPCO.